Buongiorno, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, lunedì 22 aprile, Good Morning Milano, in diretta qui su Crystal Radio 96.2 FM, Dub Plus e tutto quello che poi c'è intorno, perché sì c'è l'applicazione per iOS, poi abbiamo anche il sito internet crystalradio.it, poi c'è goodmorning.milano.it dove potete riascoltare tutto quanto quello che avete perso, che vi siete persi in queste puntate e anche i nostri ospiti, rivedere se ci sono stati dei momenti che vi sono piaciuti particolarmente. Come state? Oggi è lunedì, appunto, si parte con nuova settimana, weekend intenso almeno qui da noi, perché ci sono stati i Milano Non Profit Awards e insomma abbiamo fatto un weekend impegnativo, ma tante belle realtà, abbiamo visto passare cento e passa ospiti che sono venuti, si sono conosciuti, hanno fatto anche cricca tra di loro e quindi tante realtà che magari dopo i Milano Non Profit Awards fanno cose grazie al fatto di essersi conosciuti magari nel foie del teatro o nella platea appunto del teatro Guanella. Milano Non Profit Awards che poi nei prossimi giorni potete andare a rivedere, riascoltare e scoprire anche chi ha vinto, le varie associazioni, i vari enti, le varie cooperative che hanno vinto e portato a casa il premio di quest'anno, edizione 2024. Tutto questo grazie anche a Crystal Radio che è stato il nostro media partner e insomma siamo stati ben contenti di condividere questo racconto e questa bellissima storia insieme a Crystal Radio. La radio che tutte le mattine è qui con voi e vi sveglia a voi milanesi. La rappresentante di lista con Paradiso alle 7 e 14 minuti qui su Crystal Radio e ben ritrovati e bentornati. Abbiamo parlato appunto dei Milano Non Profit Awards che hanno un po' scandito il weekend di Milano News, Good Morning Milano e anche di Crystal Radio ma la settimana è stata quella del Salone del Mobile lo sapete bene no? Sapete benissimo che è quella roba lì e quindi arrivano i primi dati. Mi piace? Siete contenti che è finita? No invece so che sono molti che sono disperati perché questa sera non hanno niente da fare e sono disperati e dicono cosa faremo, dove andremo? Cioè mercoledì cosa farò quando non sarà più niente in giro? Avranno già smontato tutte le varie situation e tutti i vari dehors costruiti per raccontarci il design. Cosa faremo mercoledì, giovedì, ma soprattutto il prossimo weekend oddio senza Salone del Mobile. Beh, vi riprenderete, sono sicuro che ce la farete e vi riprenderete. Repubblica dice che l'unico modo serio di misurare il successo o meno della Design Week è partire dalla ragione per cui esiste, cioè il Salone del Mobile che all'edizione 62 della Fiera di Milano ha fatto il botto. Io vorrei fare i complimenti a questi giornalisti che usano questo slang così giovanile che davvero fa a capo nella pelle e poi chiediamoci perché non si vendono più i giornali. Comunque 361.417 presenze, 362.000 praticamente presenze, ieri mattina alle 11.30 e quindi comunque c'era qualcosa ancora che magari poteva arrivare nel pomeriggio. Per il 54,3% sono stranieri. Fatti i conti, il totale testimonia una crescita totale complessiva del 17,1% rispetto al 2023, quindi 17% in più. E anche un incremento per degli operatori, 26,8% rispetto appunto al 2022, quando comunque si dice insomma c'era ancora un po' di Covid, onda Covid, coda Covid che dava comunque ancora un po' fastidio. Sta di fatto che appunto tantissimi da qualsiasi parte del mondo, Germania, Spagna, Brasile, Francia, Stati Uniti, Polonia, Russia, Svizzera, Turchia, India, Regno Unito, Corea del Sud, Giappone, Austria, queste sono le prime mete da cui appunto sono arrivati i interessati, cioè non tanto i turisti, non tanto quelli che vengono qua a fare la Design Week turisticamente parlando, ma quelli proprio degli addetti ai lavori che arrivano dai paesi che appunto sono quelli che fanno muovere tutto il salone del mobile. Quindi grande festa appunto per fuori per il salone, anche per il fuori salone, nessun dubbio sull'edizione 2024 che già sappiamo si sta lavorando, nel senso che appunto abbiamo sentito anche delle parole della presidentessa del salone del mobile, quello che finisce, quando si arriva al salone del mobile non è la fine, è solo l'inizio di tutto. Poi dopo si comincia di nuovo con un anno nuovo, già da domani, già da oggi forse, forse oggi prendono di ferie, non so, ma già da domani si inizia a lavorare all'edizione nuova. Questo è quello che succede appunto ogni anno con la fiera delle fiere comunque sì, è il momento più happening. Lady Gaga, Bad Romance, 7 e 24 minuti, insomma arrivano un po' di Whatsapp che ci raccontano un po' quello che sta succedendo anche in città. Arrivano un Whatsapp di Alberto che dice buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini, giornata complicata questa di inizio settimana. Ana, pioggia e l'abbiamo vista, freddo e l'abbiamo visto, sciopero dei treni e lo so perché c'è la mia regista Maria che gli hanno soppresso il treno e arriverà in ritardo. Mezzi deviati o soppressi per l'inizio dei lavori in zona Porta Genova, e sì perché ci sono i lavori anche in Porta Genova, Porta Genova che era già chiusa nei giorni scorsi, ma adesso il 2, ragazzi se dovete prendere il 2 fatevi insieme alla croce perché è tutto cambiato, andate sul sito della TM a guardare, fa tutto un giro diverso, per un pezzo è uguale, ma poi dopo c'è il pullman, potete prendere un altro 3, quindi attenzione. Poi Porta Genova vuol dire anche 9, piccola deviazione anche sul tram 9, quindi insomma state attenti perché davvero c'è di tutto e di più. Ma Alberto lascia con un messaggio di speranza perché dice ma noi ce la faremo grazie alle istruzioni per sopravvivere nella nostra metropoli che ci arrivano dai microfoni di Cristal Radio. Ebbene sì, ebbene sì, è vero, cerchiamo di darvi, siamo il coltellino svizzero per sopravvivere a questa città, va bene. E poi grazie mille ad Alberto che ci ringrazia personalmente, ringrazio personalmente Fabio e i suoi collaboratori per l'organizzazione della manifestazione Milano Non Profit Awards. Grazie mille, Alberto appunto ieri era presente, spero stia meglio, che so che aveva un po' di febbriciattola, quindi Alberto facci sapere come stai, se stai meglio. E quindi questi sono i nostri ascoltatori, siamo ben contenti. Arrivano messaggi anche dall'altra parte, dall'oltre confine del regno, sì oltre l'Adda, sapete che oltre l'Adda finisce il regno di Milano, inizia la provincia di Bergamo. E quindi buongiorno Fabio, anche lì a Milano fa freddissimo, qui a Bergamo un freddo che pare inverno, buona giornata da quella di Bergamo. Bene, freschino anche qui devo dire la verità, eh sì, un pochino sì, le temperature sono in caduta libera, anzi da Milano Today leggiamo colpo di coda dell'inverno, a Milano farà freddo ancora per un po', ebbene sì, infatti giornate fredde, cielo grigio, pioggia e freddo, un tris decisamente invernale, nonostante sia praticamente fine aprile. E' quello che succederà a Milano nei prossimi giorni, secondo appunto le previsioni meteo. Tutto merito, oppure colpa, vedete voi, di un flusso di correnti di aria artica marittima, che continuerà senza indugio ad affluire verso l'Europa centro-occidentale, alimentando quindi sistemi depressionari secondari, cioè piove, fa schifo il tempo, punto, arriviamo a quello. Attenzione, quindi 25 aprile. 25 aprile è complicato, sicuramente non si ha ancora una chiara mappa di che cosa succederà, anzi, gli esperti in questo caso dicono, i meteorologi dicono, attenzione, che sarà instabilissimo il meteo del 25 aprile, super localizzato, quindi rischiamo di avere quello che succede ormai sempre di più, zone in cui acquazzone, pioggia, gelo, freddo e altre zone, magari nella stessa identica provincia, dove invece sole e la gente è lì a fare la grigliata. Quindi attenzione, non so, devo stare attento, non mi rovinate il corteo del 25 aprile, pomeriggio sarò al corteo del 25 aprile, la mattina invece andremo a Lambrate a seguire l'apertura di una edicola di un nostro carissimo amico Paolo Iabichino che ha fatto questa trovata, poi ve la racconto meglio nei prossimi giorni, comunque riapro un'edicola, un'edicola di libertà, diciamo, ecco quello che potremmo dire. Oggi è il 22 di aprile e pensate, il 22 aprile 1978 debuttava al Saturday Night Live, un programma storico della televisione americana, un duo con una band a seguirli, beh questo duo erano i Blues Brothers. 46 anni fa, nel 1978, debuttavano al Saturday Night Live proprio loro, i Blues Brothers. Noemi con Glicine, rientriamo, eccoci qua alle 7.36 minuti, giornata uggiosa, giornata fredda e anzi ce lo dice anche Nello, al 3317853555, ci scrive un whatsapp di cui non potevamo fare a meno, ci dice non c'è più la mezza stagione. Ma poi continua dicendo non è tanto il freddo, è l'umidità che ti ammazza e poi ci dice anche, occhio che sono cintura nera di luoghi comuni, grazie Nello per l'esprecisazione, ci sembrava che fossi infatti sulla strada buona per poterci, ce ne mancava un terzo, però insomma potevi darci anche un terzo regalo, non so, qualcos'altro sul freddo, sul bagnato, non so, piove sempre sul bagnato, qualcosa del genere, non so. Comunque questo è quello che succede oggi a Milano, quindi attenzione al meteo, copritevi perché poi dopo ci si ammala e tutto quello che è, lo sappiamo. Oggi è una giornata invece importante per Milano, c'è il derby questa sera, siete contenti? Ci togliamo il salone del mobile, arriva il derby, metà milanesi stanno festeggiando, o meglio, sono lì che si mettono le mani ovunque, le incrociano, incrociano le dita, anche dei piedi per scaramanzia, perché questa sera se l'Inter vince, si vince, si porta a casa il campionato, portandosela a casa con il derby, insomma, credo sia una bella soddisfazione per la squadra di Milano, i nerazzurri, ma c'è chi già sta festeggiando a Milano, c'è un'altra squadra che sta festeggiando alla grande, la squadra Arancione, e leggiamo dal Corriere della Sera Milano, l'Alcione, l'Alcione festeggia la promozione in Serie C, per la prima volta Milano avrà tre squadre di calcio tra i professionisti, ebbene sì, con la vittoria sul Borgosesia arriva la qualificazione matematica per gli Arancioni, ed è la prima volta in 72 anni, l'Alcione in Serie C, il sogno di giocare all'arena, pensate, tra i campioni lanciati nella sua storia, appunto, l'Alcione vede anche Caracciolo e Beppe Dossena, appunto, tra i presidenti, invece l'ex patron dell'Inter Ernesto Pellegrini e l'ex sindaco Carlo Tognoli, anche giocatori di un certo calibre VIP della storia nei 72 anni dell'Alcione, insomma, sono soddisfazioni, ma soprattutto appunto iniziano i festeggiamenti, allora a Milano già da oggi, appunto, con questa promozione, qualificazione matematica della squadra dell'Alcione in Serie C, per la prima volta nella storia, Milano avrà tre squadre di calcio nel campionato professionistico, quindi, insomma, complimenti, chapeau, come diceva un altro calciatore di quel tempo. Ah, Nello ci ha mandato un'altra chicca, con questo tempo non si asciuga più niente, verissimo, a proposito, Nello, ieri a un certo punto ero a casa, ho guardato fuori dal finestro, ho visto scendere i primi goccioloni, sono venuto a correre fuori, a ritirare la roba stesa, perché sennò era la fine, infatti si stava già bagnando, ma per fortuna niente di che, sono grandi goccioloni, ma prima invece è arrivato l'acquazzone, l'acquazzone e pioggia che sta continuando anche questa mattina e che continuerà a momenti nella giornata, nel senso che potrebbe anche smettere, ma poi ricominciare, poi smettere di cominciare, insomma, un continuo così per qualche giorno, tempo, come dicevamo, molto instabile, è anche difficile, difficile capire come andrà poi nelle prossime giornate, vi ricordo appunto, punto di domanda immenso per il 25 aprile, che non si è ancora ben definito che tempo ci sarà, e quindi insomma stiamo un po' all'occhio. Andiamo con la musica, l'abbiamo sentito qualche giorno fa, ma lo voglio riascoltare oggi, perché oggi è una giornata da ascoltare bene. Agnese di Ivan Graziani. E questo era Ivan Graziani con Agnese, che insomma, scusate se rito, ma è che mi arrivano una marea di... Cioè Nello, Nello continua, continua Nello, è fantastico, c'è il Whatsapp che continua, plim, 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 plim. Allora, eravamo rimasti a... con questo tempo non si asciuga più niente, benissimo, Nello ci dice anche che l'importante è bere tanta acqua, è vero. Il mattone è sempre un buon investimento, l'ultima non è male, mi dispiace ma ti vedo più come un amico, a questo si può aggiungere il problema non sei tu, sono io, c'è anche quella, non è male, ma anche, scusate però, il nuoto è uno spot completo, a questo punto mi viene a me che da dire, no? Che insomma è sempre un grande must quello, il nuoto è uno spot completo. Comunque, grazie Nello per i tuoi luoghi comuni, dovremmo tenerci di qua, fare un libricino, no? Quando tu non sai cosa dire, apre la pagina Nello Dixit e vedi qual è il... Oppure, un luogo comune del giorno, al giorno, no? Sai che ci sono quei libri che ti danno, no? Ogni giorno ti dicono una frase giusta da utilizzare, così per darti anche la carica, motivazionali diciamo, no? Digazionali, motivazionali, ecco, noi potremmo, Nello, pensare di fare più uno dorme più a sonno, ecco ad esempio è arrivato un altro luogo comune, facciamo un luogo comune al giorno, un bel libricino, libricino dell'uomo qualunque, no? Una cosa del genere, del luogo comune, il libro comune, ecco lo chiamiamo così, il libro comune, tu ogni giorno ne apri e c'è una frase completamente fuori contesto di luogo comune che però ti puoi utilizzare, così, durante la mattinata, durante la giornata, così, vai dagli amici al bar e snoccioli, così, dici, vabbè, comunque il mattone è sempre un buon investimento, basta così, e prenditene vai, dopo ho bevuto il tuo caffè, potrebbe essere un'idea, mi dispiace ma ti vedo più come un amico, quella lì è bellissima, veramente, veramente, ma anche non sei tu ma sono io il problema, anche quella lì è un must di quelle, vediamo poi con questa lista, ma è arrivata un'altra che è in tema anche con il momento della giornata, visto che in questo momento magari state facendo la colazione, e giustamente Nello dice, come si mangia a casa propria, non si mangia da nessuna parte, eh, quello è vero, quello è sempre così, eh, come si mangia a casa propria, non si mangia da nessuna parte, nel bene, a volte anche nel male, però conosco case in cui veramente è meglio non mangiare, un saluto, e le versetti. Comunque, va bene, andiamo avanti, allora, perché tante notizie, tanta anche quello che ci racconteranno i nostri ospiti, quest'oggi avremo appunto Filippo Poletti con Il Buon Lavoro, fra pochissimo, fra poco arriva qui con noi, e poi avremo anche il sommario di Senti Questa con Ambrogio Curti, che ci racconterà un po' quello che sentirete dopo di noi, le 9.05, qui su Cristal Radio, ma quello che sentirete durante tutta la settimana, quindi insomma ricorrenze, aneddoti, date che cadono in questa settimana che possono rimandarci, ad esempio, ad un mondo fatto di giornate importanti per la musica. a proposito di colazione, Erika ci scrive un whatsapp al 3317853555, la colazione è il pasto più importante della giornata. Bene, e con questa direi che possiamo concludere questa lista di voi comuni, non ve ne leggo più, e ve lo dico, ah non ve ne leggo più, basta, è la fine, basta, non ne leggo più, però, no, avrei qualcuno ancora dopo, lo leggo ancora invece. Final Countdown Europe, alle 7.50 minuti, qui su Cristal Radio, a Good Morning Milano, grazie ancora per tutti i vostri luoghi comuni che avete mandato al 3317853555, da QTACU, ad esempio in tema con la giornata di oggi, da lunedì, da lunedì mi metto a dieta, appunto. Invece non si è messo a dieta, anzi ci augura il buon lavoro, ci augura una grande settimana di lavoro, o di giornata di lavoro, con le notizie sul mondo del lavoro, chi? Filippo Poletti, che è qui con noi, tutte le... il lunedì mattina, raccontarci un po' appunto quello che succede nel mondo del lavoro, e quindi buon lavoro a te Filippo, buon lavoro con Filippo Poletti. Buon lavoro a tutti, buon lavoro da Torino, alle mie spalle la riproduzione di una 500. buon lavoro, la prima parola della settimana è settimana corta, non è un gioco di parole. Un direttore e char su due è pronto a sperimentare la settimana corta. Leggiamo insieme le motivazioni. Per il 79% migliora la conciliazione vita-lavoro, per il 46% perché fa bene al corpo e alla mente, e per il 27% perché motiva i collaboratori. Lo dice un'indagine di AIDP, l'Associazione Italiana per la Direzione del Personale. dunque tiriamo le somme. La metà degli HR è favorevole alla settimana corta. Bene, vediamo se lo è il resto del management delle nostre aziende italiane. La seconda parola chiave della settimana è premio. Pensate un po', 1500 euro di premio ai dipendenti per i 60 anni dell'acqua lauretana. Leggiamo insieme le motivazioni di questo premio, di chi? del presidente Giovanni Vietti. Ha detto, ci impegniamo a creare un ambiente lavorativo positivo e gratificante. Questo premio è un modo tangibile, concreto, per riconoscere il contributo fondamentale di ogni persona al successo dell'azienda. Buon premio a tutti, appunto, i dipendenti dell'acqua lauretana. La terza e ultima parola chiave della settimana è cura delle persone. Dobbiamo curarci delle persone, dobbiamo esercitare la nostra libertà in relazione al rispetto degli altri e non come arbitrio. Chi lo dice? Lo dice Guido Stratta, ex HR di Enel e fondatore dell'Accademia della Gentilezza. sempre Stratta dice per ottenere risultati in azienda che cosa bisogna fare? Occorre curare il benessere delle persone, dei dipendenti. Come non essere d'accordo? Umanità, appunto, cartina di tornasole della vera leadership in azienda. Buon lavoro a tutti. La fantasia. Penso positivo con Giovanotti, anzi Giovanotti con Penso Positivo alle 8.09. Qui al nostro Crystal History. Sempre grande sentire Giovanotti. Alla mattina pensiamo sempre positivo, cerchiamo di pensare positivo, anche se a volte non è semplicissimo, ma ci aiutano anche, non so, mi sono incastrato un po' in un cinepraio di collegamenti che volevo fare, nel senso che, ok, sempre pensare positivo, ma bisogna anche prevenire ogni tanto. E come si fa? Ad esempio, nel tema sicurezza, leggiamo da Repubblica Milano, Telecamere e sicurezza, nuova centrale per i vigili di Milano in vista delle Olimpiadi. La prima tranche di lavori per il rifacimento integrale della sala operativa di Piazza Beccaria, subito dopo gli spogliatoi. Non ho capito. Rileggo, scusate, rileggo l'occhiello. La prima tranche di lavori per il rifacimento integrale della sala operativa di Piazza Beccaria, subito dopo gli spogliatoi. Per i giochi, spazi per le altre forze dell'ordine. E senza un punto final. Quindi non ho mai letto scrivere il titolo. Non ho mai letto scrivere il titolo, secondo me. Ci sono delle cose che non mancano un punto. Ma comunque, 25 milioni di euro per rifare la centrale operativa dei vigili e rimettere a nuovo il palazzo del capitano di Piazza Beccaria, sede del comando centrale. Il comune, con una determina dirigenziale, ha dato l'ok al progetto esecutivo sotto il titolo un po' burocratico di, pensate qua, leggete, riqualificazione e adeguamento normativo delle componenti edili e impiantistiche. Cioè, si rimette a posto la sala operativa. La centrale, oggi al secondo piano, salirà invece al terzo. Si allargherà per poter ospitare anche altre forze dell'ordine che dovranno lavorare in coordinamento durante le Olimpiadi del 2026. L'idea è infatti quella di mettere a disposizione della manifestazione un unico cervellone di controllo. Domanda, ma non c'era già una sala operativa fatta così a Quartogiaro perché era stata fatta per Expo? Cioè, c'era già una roba là. Non si poteva cercare di fare qualcosa insieme, non lo so, o è di un altro ente, non si può, ognuno deve avere le sue, non lo so, chiedo, eh. Chiedo per un amico come si dice. Il terzo piano, si legge nei documenti di MM, subirà una radicale trasformazione per rispondere alle esigenze della nuova funzione da ospitare. Infatti, l'intero piano verrà destinato alla nuova centrale operativa e alle funzioni ad essere legate, prevedendo un'area di grandi dimensioni nel corpo est dell'edificio verso Corso Europa che sarà il nucleo principale delle attività. Insomma, questo è quello che sarà quindi tutto, mi piace che c'è tutto scritto anche che rifarà il rifacimento completo di tutti i servizi igienici. Benissimo, adesso siamo contenti per il corpo della polizia locale che finalmente potrà andare in bagno senza problemi, ma noi che c'è, nel senso, raccontateci le cose un po' più tecniche, come funzionerà questa sala, non c'è scritta questa roba qua. Cioè, niente, vedrà uno stop. Questa è la seconda parte dell'inizio del lavoro, c'è varie tranche di lavori, tra parentesi, a un certo punto bisognerà fermarsi perché ci sono le Olimpiadi e poi si riparte alla fine delle Olimpiadi finendo i lavori conclusivi di tutto il rifacimento di tutta la struttura, quindi non solo della sala operativa, entro il 2027. Bene, diciamo che, insomma, una notizia che potevate un attimino spiegarcela un po' meglio oppure forse non c'è una notizia, la verità è questa. Dato l'ok, ma ancora non si sa bene come verrà fatta questa sala operativa, sarebbe interessante capire che cosa operativano. La sala operativa che gestisce come, in che maniera, questo sarebbe molto interessante capirlo, lo scopriremo sicuramente nei prossimi giorni quando si andrà un po' in più in profondità su queste notizie. Comunque, quello che trovate su Repubblica Milano quest'oggi, appunto, nuova centrale operativa per i vigili di Milano in vista delle Olimpiadi. You keep me hanging on! Era il 1986 e Kim Wilde, la biondissima Kim Wilde cantava questa canzone. Ed era questo, un po' questa è la musica, no, che vi mettiamo qui su Crystal Radio, un po' cerchiamo di raccontarvi quello che è stato, quello che è, quello che sarà. Passa da tutto, no? Qui ci sono i Crystal History, appunto, le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Poi, i grandi pezzi degli anni Ottanta, ma anche la musica di oggi. Abbiamo sentito in apertura la rappresentante di lista con un brano uscito praticamente l'altro ieri, quindi, insomma, cerchiamo di darvi un po' di tutto. Sì, so che ci sono delle cose che non mandiamo in onda, o meglio, io non le mando in onda, ma non penso, non mi sono ancora arrivati gente che piange perché non sente determinati cantanti durante le mie due ore. Invece, se volete parlare di musica, anzi, se volete ascoltare la musica buona, la musica bella e capirne anche il significato e magari le storie che ci sono dietro da alcune canzoni o da alcuni interpreti, beh, c'è uno su tutti che ce lo aiuti, chi ci aiuta in tutto questo. C'è il nostro messia della musica, Ambrogio Curti. ebbene sì, che dopo di noi con SentiQuesta ci racconta tantissime cose sulla musica, tantissime vita, storie, racconti, aneddoti sulla musica, ma ce le fa anche ascoltare. Cosa potete ascoltare questa settimana? Cosa ci darà? Cosa ci sarà sul menu di questa settimana di SentiQuesta? Lo possiamo chiedere direttamente alla voce brillante e competente di Ambrogio Curti. Grazie mille, grazie mille ad Ambrogio Curti, grazie davvero di tutte le tue indicazioni e non vediamo l'ora di ascoltare la puntata di oggi di SentiQuesta alle 9.05 in diretta appunto qui su Crystal Radio dopo il giornale radio ma tutti i giorni appunto dopo Good Morning Milano dopo il giornale radio arriva Ambrogio Curti con SentiQuesta e quindi siamo ben felici sempre di averlo qui con noi ad aver sentito le grandi storie e racconti che potremo sentire questa settimana. Andiamo avanti con la musica adesso poi torniamo qui sempre in diretta con ancora un po' di notizie e tanto altro fino alle 9 in diretta. New Moon on Monday Durandurand 8.34 minuti siamo qui davanti ai giornali alle notizie di oggi e attenzione perché è arrivata una notizia da pochissimi minuti in tutte le redazioni e già su tantissime sulle agenzie e anche sui vari giornali sta già uscendo in prima pagina prima pagina anche sul Corriere della Sera allora lo leggo iniziamo da Repubblica Milano torture e violenze nel carcere minorile Beccaria di Milano 13 agenti della polizia penitenziaria arrestati e 8 sospesi l'indagini indagini su fatti a partire dal 2022 c'è anche una tentata violenza sessuale ad un detenuto minorenne aggiungiamo ricordiamo appunto anche Corriere della Sera Milano carcere Beccaria maltrattamenti e torture sui detenuti minorenni arrestati 13 agenti penitenziari altri 8 sospesi episodio appunto del 2022 torture e violenze sui minorenni al Beccaria arrestati 13 agenti questo il titolo di Milano Today questa mattina appunto all'alba del lunedì 22 aprile nei guai 21 persone 13 arrestati 8 sospesi dal servizio di questi 13 leggiamo da Milano Today terremoto al carcere minorile Cesare Beccaria di Milano 13 agenti di polizia penitenziaria 12 attualmente ancora in servizio della struttura sono stati arrestati dalla polizia all'alba di oggi lunedì 22 aprile di questo tema in particolare di questo tenore tutti i giornali stanno aprendo appunto con questa notizia notizia davvero inquietante e adesso vedremo appunto come andranno avanti le indagini non si sa nulla al momento i reati leggiamo anche da TG Com 24 i reati sono stati riscontrati a partire dal 2022 dal scusate dal 2022 ad oggi e reiterati nel tempo quindi qualcosa che sembra essere arrivato fino appunto ad oggi 21 misure cautelari in totale tra cui appunto questi 13 arresti con dentro ancora persone che avevano fino a poche fino ad oggi ancora lavoravano nella struttura quindi l'indagine è partita da alcune segnalazioni all'autorità giudiziaria anche attraverso il garante predetenuti è stata sviluppata attraverso diversi servizi tecnici di intercettazione e acquisizione anche delle camere interne all'istituto che hanno permesso di raccogliere indizi di reato per diversi episodi di violenze ai danni dei minori appunto nella struttura del beccaria il GIP ha appunto avvagliato tutte le prove e ha detto quindi appunto di partire questa mattina appunto nella mattinata di oggi lunedì 22 aprile sono state eseguite le misure cautelari in seguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei pubblici ministeri del quinto dipartimento della procura altri otto agenti invece della polizia penitenziaria sempre in servizio nel carcere minorile all'epoca dei fatti sono stati sospesi dal servizio è un bel terremoto che sicuramente non si farà attendere ripercussioni su tutta la città per l'ennesima volta è una storia veramente veramente brutta in questo caso abbiamo da una parte lo Stato che dovrebbe difenderci e tutelarci dall'altra dei minorenni sicuramente una situazione davvero davvero brutta e complicata da gestire che non sarà per niente per niente facile quindi insomma adesso capiremo un po' la situazione nei prossimi giorni sicuramente nelle prossime ore anzi teniamo sotto controllo le agenzie di stampa perché arriveranno tutte i vari casi si capirà meglio appunto quello che è successo per ora ci sono solo questi tredici arresti avvenuti all'alba e queste otto sospensioni dal servizio per gli agenti della polizia penitenziaria che era in al carcere appunto all'istituto penitenziario per i minorenni Cesare Beccaria di Milano 8 e 43 minuti ancora qui in diretta a Cristiano Radio Good Morning Milano arrivano ancora al 331 7853 555 di Whatsapp che ci ricordano che questa sera è la sera del derby appunto derby scudetto e stella così ci dice qualcuno che ci sta scrivendo vedremo sicuramente sapete che noi lo studio di Good Morning Milano è praticamente attaccato allo stadio quindi se devo dirla tutta cari interisti io spero che un bel pareggio questa sera e via così almeno non vincete lo scudetto stasera tanto lo vincete settimana prossima dove siete siete non mi importa la festa poi l'ha fatta in Duomo va benissimo perché se me lo vincete qui mi fate la festa qui è un bel casotto cioè non esco più di casa non esciamo più dallo studio qua capito quindi se riusciamo a posticiparla fatelo per noi dai per favore so che è bella l'idea di vincere con il incontro il Milan di vincere la San Siro benissimo va benissimo però magari settimana prossima con calma e serenità per me non è meglio così almeno lo fate con un'altra squadra poi vincete poi lunedì non potete neanche festeggiare più di tanto che poi domani dovete andare a lavorare quindi non potete fare serata o cosa tanto poi la fate comunque quindi insomma non lo so poi io consiglio così spassionato senza avere troppo tanto per dire come dire tanto per dire musica andiamo un po' in musica Fred De Palma con ti raggiungerò Fred De Palma ti raggiungerò 8 e 47 minuti ancora qualche minuto per salutarci per raccontarci un po' ancora e farmi sapere se volete quello che andrete a combinare quest'oggi lunedì 22 aprile molti di voi sono già in fribrillazione per il derby lo so benissimo e quindi c'è poco da dire oggi saranno giornata di attesa in vista della partita di questa sera e poi chissà se appunto partiranno i festeggiamenti io rimango sul vago anche per non portare sfortuna per insomma la scaramanzia in questi casi è d'obbligo e quindi insomma non bisogna esagerare grazie anche a chi ci sta scrivendo al 33178535555 grazie a Katia che ci scrive buongiorno e buon inizio settimana buon inizio settimana anche a te chissà se anche da tua parte fa così freddo e piove come qui qui continua a piovere chiunque si andrà in redazione lo dice ormai c'è il meteo in diretta e comunque andiamo avanti invece con un po' di musica ci scaldiamo ci scaldiamo perché teniamo a voi teniamo a voi che ci scrivete teniamo a voi tutti che ci ascoltate anzi tiena a te come dicono in Nugenea ve l'ho già raccontato Nugenea lo dico ogni volta duo che nasce a Berlino di cantanti però napoletani che si incontrano là e fanno questa grandissima musica internazionale che insomma sta veramente spaccando tutta Europa loro sono in Nugenea con tiena a te 8 e 54 minuti lunedì 22 aprile siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano grazie a tutti voi che ci avete sentito ascoltato seguito e guardato questa mattina in diretta su Milano News in diretta qui su Crystal Radio oppure in podcast su goodmorning.milano.it rimanete comunque sempre qui su Crystal Radio perché la musica continua la storia della grande musica continua grazie ad Ambrogio Curti che arriverà dopo di noi dopo il giornale radio con senti questa ma poi comunque tutto il giorno mi raccomando sintonizzatevi sempre su Crystal Radio perché per tutto il giorno c'è grande musica e grandi programmi con grandi speaker alcuni bravi anche come me qualcuno qualcuno ce la può fare tutti tantissimo molto anzi molto più bravi di me grazie anche ad Elisa e Maria in regia in redazione grazie davvero del vostro supporto grazie anche a Trenord che anche nonostante la cancellazione dei vari treni è riuscito comunque a far arrivare tutti quanti sani e salvi in redazione quindi grazie mille anche a voi noi ci sentiamo domani dalle 7 alle 9 qui in diretta su Crystal Radio come sempre con un nuovo appuntamento di Good Morning Milano questa settimana abbiamo un giorno in meno e ve lo dico ma poi comunque ne parliamo al 25 aprile non siamo in onda ma al 26 siamo qua niente ponte ciao